Nel 2023 gli incidenti stradali in Liguria sono diminuiti rispetto al 2022, lo certificano i dati Istat. Nel 2023 sono stati registrati 7.530 incidenti stradali che hanno provocato 55 morti e 9.194 feriti, in calo rispetto ai 7.863 sinistri del 2022 che avevano causato 57 morti e 9.613 feriti. Tra le province Liguri Genova vede una flessione generale con 4.595 incidenti, 21 morti e 5.482 feriti. A Savona e La Spezia rispetto al 2022 sono cresciute le vittime della strada mentre Imperia registra un aumento di incidenti e feriti. Dai dati Istat si può anche creare una mappa delle tipologie di aree e dei mesi in cui si concentrano i sinistri. In Liguria la gran parte degli incidenti stradali, 6.270, avviene su strade urbane. A seguire, distaccati nettamente, sono gli episodi su autostrade raccordi che arrivano a 567 casi. Dai dati emerge il periodo più pericoloso ed è proprio quello più caldo quando gli esodi estivi e i flussi turistici condizionano il traffico. Nel 2023 da maggio a ottobre sono avvenuti oltre 4.000 incidenti stradali, più della metà del totale. Nei sinistri i guidatori più coinvolti sono persone di sesso maschile, più del doppio rispetto alle donne. La fascia d'età maggiormente colpita dagli incidenti è quella tra i 30 e i 40 anni. Casistiche in cui purtroppo, a pagare le conseguenze, non sono solo i guidatori. Rimane alta la fragilità degli utenti deboli delle strade. Nel 2023 in Liguria sono stati feriti 1.144 pedoni, 12 le vittime. Per quanto freddi, i numeri possono dare delle indicazioni sugli ambiti in cui intervenire. La Liguria è la regione italiana con il più basso tasso di mortalità negli incidenti stradali in rapporto alla sua popolazione, 3,7 per 100.000 abitanti. Merito probabilmente di veicoli con sistema di sicurezza più efficienti, ma nel caso Liguria incidere è l'elevato numero di tamponamenti sinistri a bassa velocità, una situazione che trova riscontro nell'indice di incidentalità che Liguria fa registrare il primato nazionale, 500,1 incidenti per 100.000 abitanti. Numeri questi che riflettono una situazione complessa e variegata, che dovrebbero innescare una riflessione sui interventi da attuare per migliorare la sicurezza delle strade e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.